Adesso, come ogni grande attore, io, Richard Barton, Liz Taylor, abbiamo il camerino. E dentro è grande, è 400 metri quadri. C'è piscina, campetto di ping pong, sauna, doppio bagno, doppia cucina, divanetto e terrazza. Ma chi sono i tuoi vicini di casa? Io abito il capitano Tommasi, ma lui c'è un buchetto, un'ex cabina telefonica che è stata rifatta a camerino. Il mio è grandissimo, enorme. Infatti stasera facciamo una festa di ballo, ci sono invitate 150 persone.